di nuovo un cordiale saluto a tutti voi e ben ritrovati per questa edizione del tg giorno dunque come dicevamo in sede di presentazione incidente mortale questa mattina sulla fondo valle poco dopo la rotatoria di val d'ottavo vediamo appunto le immagini un furgoncino porter con a bordo due operai che si occupavano della viabilità stradale che viaggiava in direzione garfagnana si è schiantato contro un'auto che procedeva in direzione opposta i due operai a causa dell'impatto violento sono stati sbalzati fuori dal mezzo uno dei due di 56 anni ha perso la vita sul colpo l'altro è stato trasportato col pegaso in codice rosso all'ospedale di cisanello feriti anche due occupanti dell'auto un uomo e una donna che dopo essere stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco sono stati trasportati all'ospedale san luca di lucca sono intervenuti sul posto mezzi del 118 i carabinieri e la polizia locale della media valle il traffico come vedete ha subito parecchi rallentamenti in una zona peraltro a quell'ora della mattina molto trafficata su questa ennesima tragedia che si è consumata sulle nostre strade torneremo nelle prossime edizioni del tg noi società fantasma la finanza chiede la chiusura di 10 partite iva tra lucchesia e versilia dopo una serie di controlli la guardia di finanza di lucca ha chiesto all'agenzia delle entrate la chiusura di 10 partite iva risultate inattive o inesistenti il provvedimento spiega la finanza in un comunicato mira a prevenire l'uso delle partite iva per scopi illeciti quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o l'ottenimento di contributi non spettanti ad esempio dai bonus facciate o super bonus o per accedere in maniera illegittima ai contributi statali nell'ambito dell'emergenza covid gli accertamenti hanno riguardato alcune società con sede a lucca capannori e camaiore che avevano richiesto l'apertura di partite iva e che dichiaravano di operare in diversi settori merceologici come la ristorazione l'immobiliare e la riparazione e manutenzione di navi commerciali dai sopralluoghi le fiamme gialle hanno scoperto che le sedi operative dichiarate dalle società in realtà non esistevano e che il legale rappresentante era irreperibile da cui il sospetto che le partite iva fossero state richieste per scopi che non avevano a che fare con una normale attività aziendale i controlli hanno portato tra l'altro a scoprire che alcune società che dichiaravano di operare nel campo della commercializzazione di pallet di fatto erano state create ad hoc per mettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti un giro d'affari quantificato in oltre 10 milioni di euro che ha visto coinvolta un'azienda della piana di lucca una notizia arrivata adesso proprio poco fa qui in redazione nuovo sciopero degli addetti di salt per l'avvertenza aperta con la società che gestisce la 12 la bretella autostradale lucca viareggio come si spiega dai sindacati filte cgl fit cis del trasporti e slac cisal che hanno diffuso una nota la stensione dal lavoro sarà attuata sia il 10 che l'11 settembre quindi parliamo di domani e dopo domani con differenti modalità di orario è dal 19 agosto che i lavoratori hanno attuato scioperi la protesta spiegano i sindacati è per il mantenimento di adeguati livelli di qualità del servizio offerto all'utenza il mantenimento di adeguati livelli occupazionali in una logica di contrattazione tra le parti per dare continuità a corrette relazioni industriali i dati del covid possiamo andare sul nostro sito casi ormai stabilmente sotto quota mille meno di 200 ricoverati e solo quattro terapie intensive vediamo la tabella già completa nuovi contagiati in toscana 753 età media 43 anni tasso di positività all'11,2 per cento i ricoverati scendono sotto quota 200 adesso sono 197 le terapie intensive sono quattro come i decessi con un'età media superiore ai 91 anni nessuno nella nostra provincia dove nuovi contagiati sono stati nelle ultime 24 ore 86 50 nella piana di lucca 15 nella valle del serchio e 21 in versilia i vigili del fuoco del comando di lucca di staccamento di castelnuovo garfagnana sono intervenuti ieri sera alle 19 e 30 nel comune di piefosciane in una zona molto impervia coadiuvati dalle unità del soccorso alpino per soccorrere un uomo di 87 anni che a seguito di una caduta si è infortunato ad un arto inferiore purtroppo ancora una volta ne avevamo già parlato ricorderete nei giorni scorsi si ripropone la ventatezza e l'eccessiva spericolatezza con cui troppa gente anche in età diciamo piuttosto avanzata si avventurano nei boschi sottovalutandone i pericoli turismo balneare in crescita ma per il 2023 si paventa un aumento dei prezzi l'industria del turismo chiude l'estate in positivo un più 15 per cento di pernottamenti stimato su scala nazionale da uno studio di confe esercenti a su turismo rispetto al 2021 più 11 per cento per le località balneari una crescita trenata dal ritorno degli stranieri più 35,4 per cento che non è bastata tuttavia a tornare ai livelli precovide del 2019 a causa dell'inflazione e dell'aumento vertiginoso dei costi dell'energia che ha tagliato i margini delle imprese ricettive una fotografia che si specchia anche in versilia dove il bilancio della stagione buono ma non all'altezza delle aspettative create da un maggio e un giugno eccezionali meno italiani ma tanti stranieri sono tornati gli stranieri specialmente dal centro europa la francia la germania l'olanda poi anche dall'est la polonia l'ungheria e anche qualcosa si è iniziato a vedere dal estremo nord che può essere la scandinavia la svezia pesano i rincari delle bollette e questo avrà conseguenze soprattutto sulla prossima stagione estiva sicuramente dovremo rivedere i prezzi per la prossima stagione in quanto se gli aumenti rimangono costanti qualcosa andrà riversato sui prezzi futuri e sull'autunno chiaramente ci aspettiamo un calo di tutto in attesa di capire come andrà il mese di settembre a viareggio di certo si è avvertito il traino del giova beach party in termini di pernottamenti e di consumi sul territorio giova beach party è stato un evento fantastico da tutti i punti di vista e speriamo che non solo giovanotti ma anche altri cantautori dj chi più ne ha più ne metta cerchino la nostra zona per effettuare eventi di questo tipo di questa portata la sanità l'asl rassicura più personale e potenzieremo i servizi nel confronto tra il 2019 e il 2022 il personale sanitario impiegato dall'azienda asl toscana nord ovest in provincia di lucca in attività nuove o potenziate è cresciuto di 394 unità 194 infermieri 190 os e 10 ostetriche professionisti spiega l'asl che si sono occupati di servizi aggiuntivi e innovativi rispetto al pre pandemia fortunatamente assistiamo anche ad una descalation sul fronte assistenziale covid che permetterà a breve di ridurre in queste aree la presenza di personale specificatamente dedicato andando a rinforzare specifica all'azienda sanitaria altri settori anche per permettere la ripresa dell'attività di routine dopo il periodo estivo la pandemia ha messo in luce le criticità legate alla forte carenza di organico in ambito sanitario e le segnalazioni da parte di sindacati e ordini professionali sono all'ordine del giorno l'asl non nasconde la situazione di difficoltà che sta incontrando nel reperimento dei dipendenti legate in particolar modo alle assenze ma rassicura sul fatto che ci sia un impegno costante nel rispondere in maniera adeguata alle attuali esigenze cerchiamo per quello che è possibile di ottemperare con tutti chiaramente gli istituti contrattuali che noi abbiamo a disposizione e come le dicevo anche l'impegno a reperire numeri di personale adeguati consideri che rispetto al 2019 nella zona di lucca noi abbiamo incrementato di 90 infermieri 75 operatori sociosanitari e 4 stetiche quindi abbiamo in qualche maniera dato la possibilità anche su alcuni servizi di riadeguare le dotazioni che avevamo parliamo del blues festival perché c'è un possiamo dire clamoroso cambio di sede il blues festival dice addio a lucca e trasloca a capannori l'annuncio è comparso sulla pagina facebook della manifestazione con un comunicato dai toni molto duri lucca blues festival lascia lucca perché le ultime elezioni comunali hanno determinato una giunta composta da fascisti razzisti e xenofobi si legge nel comunicato che continua il nome della nostra associazione e il suo logo non saranno mai accostati nemmeno per sbaglio a simili personaggi i diritti civili e l'antifascismo si legge ancora sono un muro insuperabile per i nostri valori che nessun contributo concessione di spazi può intaccare l'associazione annuncia quindi che è stata annullata la manifestazione un blues a settembre per il quale il comune aveva già deliberato un contributo di 1000 euro soldi ai quali gli organizzatori rinunciano annullato anche l'acoustic blues festival in programma a febbraio l'associazione annuncia quindi che il prossimo appuntamento si svolgerà a capannori ad aprile con la decima edizione delle lucca blues festival ci trasferiamo a capannori si chiude il comunicato dove ci hanno accolto a braccia aperte e dove i diritti civili e l'antifascismo sono valori primari come tutelare negozi storici in tal senso conf commercio chiede un incontro con il comune di lucca un tavolo di confronto con il comune per programmare il futuro del commercio cittadino a lucca lo chiede la conf commercio non solo per discutere la proroga della moratoria dei pubblici esercizi in centro storico e della sua possibile estensione alla prima periferia ma anche permettere a punto ulteriori strumenti di tutela delle attività tradizionali per evitare che nel tempo e a seguito di eventuali cambi di gestione i negozi storici possano subire modifiche tali da farne perdere l'originaria impronta il caso dell'ex negozio ristori e dei suoi arredi spiega il direttore di conf commercio lucca sarà giovanetti ci deve mettere sull'avviso perché i fondi che posseggono delle qualità strutturali o accessorie uniche non sono pochi in centro e devono essere salvaguardati chiediamo l'attivazione di misure che possono a tutela del commercio tradizionale che possono appunto essere ideate progettate attivate tramite la legge regionale sul commercio piuttosto che misure urbanistiche quello che vogliamo evitare è appunto ulteriore caso profumeria ristori con quegli arredi bellissimi storici smantellati o un nuovo caso caffè di sino lucca una bellezza peculiare è giusto tutelarla e valorizzarla e ci sono gli strumenti che possono permettere queste cose per questo abbiamo chiesto all'amministrazione appunto di attivare un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria anche per esempio con quelle artigiane proprio in questa direzione ed ora parliamo di lucart di sostenibilità della filiera della carta supportare oltre mille imprese della filiera della carta nell'adozione di modelli di business più sostenibili favorire l'innovazione tecnologica e avviare processi che permettano di ridurre il loro impatto ambientale è questo il fine dell'accordo firmato da enel x e intesa san paolo con lucart uno dei più importanti gruppi cartari europei leader nel settore dei prodotti professionali per l'igiene l'iniziativa prevede lo sviluppo di un progetto che consenta alle aziende distributrici dei prodotti lucart di abbracciare il paradigma della sostenibilità attraverso tre azioni l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei propri magazzini l'elettrificazione delle proprie flotte veicoli per la movimentazione delle merci la sottoscrizione di finanziamenti e servizi finanziari legati a specifici obiettivi di sostenibilità nell'ambito dell'accordo lucart in qualità di capofiliera promuoverà attivamente il progetto tra le proprie aziende distributrici selezionando in piena discrezione autonomia i soggetti interessati attualmente l'iniziativa è stata presentata ad un panel di imprese partner di lucart e bene il 66 per cento ha dichiarato l'intenzione di aderire al progetto e di beneficiare delle opportunità offerte dall'accordo con elix e intesa san paolo eccoci tornati la terza parte di questa edizione del tg giorno di venerdì 9 settembre che purtroppo per chi non ci avesse seguito in apertura abbiamo dovuto aprire con la notizia del drammatico incidente stradale lo troviamo in primo piano sul nostro sito frontale sul fondo valle muore operaio tre feriti leggiamo brevemente incidente mortale questa mattina poco dopo la rotatoria di val d'ottavo un furgoncino porter con a bordo due operai che si occupavano della viabilità stradale e che viaggiava in direzione garfagnana si è schiantato contro un'auto che procedeva in direzione opposta vediamo le altre notizie in primo piano società fantasma la finanza chiede la chiusura di 10 partite iva tra lucchesia e versilia i dati covid casi ormai stabili sotto quota mille meno di 200 ricoverati e solo quattro terapie intensive sempre per la cronaca sempre la storia che io ribattezzato benedetti funghi soccorso e tratto in salvo un 87enne cercatore di funghi in una zona impervia della garfagnana nel comune di pieve fociana poi per quanto riguarda lo sport questa mattina la presentazione del settimo trofeo carlo lovari 16 17 settembre ci sarà grande pallacanestro al palatagliate sentite le squadre che vi parteciperanno la virtus bologna la reier venezia la leonesa brescia e il dertona basket sono quattro delle migliori squadre italiane in senso assoluto intanto per il basket al palatagliate bis del fami la schio ieri sera la squadra campione d'italia ha travolto il jason lemura che però ricordiamo era privo della egni con una morrison acciaccata e insomma ci saranno altre occasioni per rivedere la squadra di andreoli già domenica sera in occasione di un'altra amichevole di lusso alle 18 contro la virtus bologna bene con questo direi che è davvero tutto prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera le 21 e 15 una puntata di parliamone in villa grazie grazie a tutti voi di averci seguito per questa edizione del nostro telegiornale buon proseguimento di giornata e poi a partire dalle 17 e 30 come sempre tutti gli aggiornamenti nelle varie edizioni del nostro tg grazie e buon proseguimento grazie a tutti